DIMMI COSA CERCHI DIMMI COSA CERCHI Sono anni che la baglia non si tinge di sangue. Chi sfodera le armi deve vedersela con i miei uomini. Attieniti a questa regola e non avrai nulla da temere. E adesso dimmi come posso aiutarti. Cerco un contrabbandiere, donna. Bene. È al pieno di sotto che si scuola la terza bottiglia di sake. Divertiti con lui. Grazie. Torna a trovarmi. Credo che potremo aiutarci a vicenda. Per rubare nuovi vestiti. Vi prego, ho un messaggio per voi. Devi essere Godo. Siamo tutti qualcuno. E voi chi siete? Lord Sakai. Ah, i samurai sono tutti morti. Qui ne hai uno vivo, mi pare. Ma con la pazienza al limite. Lord Shimura chiede il pagamento del tuo debito. È vivo? Che cosa vuole? Ti consegni un messaggio in Giappone. Una tratta che vendevo molto cara. Ancora prima del blocco dei Mongoli. Ma tu hai un debito. Così lo salderai. Quindi non ho scelta. Vedevo che Komoda avesse cancellato il mio debito con Lord Shimura. Ecco perché bevevo. Per festeggiare la fuga. Per piangere i samurai. Sono morti difendendo gente come me. Se la pensi così, trova il coraggio e aiutaci a vendicarlo. Ci serviranno molti altri samurai per farlo. Li avremo quando consegnerai il messaggio di Lord Shimura. Questa è casa mia. Entrati. Non sarà facile superare quel blocco di Mongoli. Avete il messaggio di Lord Shimura? Ce l'ha lui. Al campo sulla costa di Akashim. Ah. Posso farcela. Ho una barca nascosta vicino a Forte Mitodake. La mappa mostra il punto della foresta dove attenderò. Aprici, Goro. Non ce ne andremo finché non avrai pagato il debito. Ci penso io. Non avevo chiesto, Ronin. Mio signore, che affari avete con Goro? Privati. Beh, torneremo. Qualcuno ha visto gli occhi. Mi prego. Qualcuno ha visto tu. Uba, dove sei? Finalmente. Novità. Sì, Lord Shimura. Ho trovato Goro a Omugi. Era ubriaco? Non più. Salterà per il Giappone e ripagherà il suo debito. Sarà anche l'osco, ma pochi conoscono il mare come Goro. Consegneranno loro il tuo messaggio? Esatto. Lutaro e Giro sono leali e coraggiosi. Presenteranno allo Shogun una richiesta di rinforzi. Goro è pronto. Ci aspetta qui vicino per condurci alla barca. Partiremo al momento opportuno. Approfittane per prepararti a combattere. Sì, sì. E ora. Ai vostri cavalli. Siamo pronti, signore. State allerta. E tenete d'occhio il contrabbandiere. No, forza! Capisco se... ...entre quando vuoi chiedermi qualcosa. Sentiamo. Come hai conosciuto, Goro? Scopri che vendeva seta cinese o imita dallo Shogun. Via di fuoco alla merce lo lasciando. Meritava la frusta, ma trovasti una soluzione migliore. Un abile marinaio può rivelarsi utile. I mongoli hanno molte navi. Goro riuscirà a evitarle tutte? Non ha scelta. Cosa facciamo se ci prendono, mio signore? Non temere la morte, Kotaro. Vivi con coraggio. E ricorda sempre chi hai giurato di difendere. Lord Shimura! Goro! Dov'è la tua barca? Di qua. Sono felice che siate vivo, signore. Grazie per voler onorare il tuo debito. Farò il possibile. Ma temo che i mongoli affonderanno la barca, non appena salverà. Troppi occhi vigilano sulle acque. Forse possiamo distraire. Scendete. Seguiamo a fuori. Forte Mitodai. Mio padre lo sottrasse al clan Niarikama. Ora è dei mongoli. Immagina la loro sorpresa quando due samurai lo riconquisteranno. Se mettiamo il forte in subugno. Le navi si concentreranno su di esso trascurando le acque. Goro, gli occhi del nemico saranno puntati sul forte. Salva appena inizia la battaglia. Mio signore, vi uccideranno! Pensa solo a consegnare il mio messaggio. I cavalli possono farci scoprire. Si va a piedi, Lord Sakai. L'armata mongola è potente, ma il nostro attacco li coglierà di sorpresa. Speriamo vada così al forte. Sono più numerosi, ma non possono attaccare tutti insieme. Quanto potremo contare sul fattore sorpresa? Solo finché non vedremo il nemico. Poi colpiremo. Mongoli. Potremmo evitarli. Volta le spalle al nemico e morirai con la schiena trafiggita. Per Tsushima! Osho! Otra! Osho! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti